Ciao, buonasera a tutti. È il 31.12, medianotte. Siamo a casa di Maui. Ho le orecchie. Mi sono un po' sul divano a dormire, ho fatto una sboglia. E poi mi sono alzata e le orecchie erano così. Mi sono trovato un coltello in mano. Ora faccio prima destra, poi sinistra. Destra, destra, una sinistra, poi destra. Tutte due insieme. Proviamo tutte due insieme? No, prima destra, poi sinistra. Destra, attenzione, concentrati di qua, portami la camera di qua. Taggete. Di qua, portami la camera di là. Taggete. Allora, adesso fuori stanno sparando. Qui dentro c'è silenzio. Allora, abbiamo mangiato fritto tutta la sera. Salumi, patate fritte, ketchup, senape. Insomma, abbiamo mangiato merda. Adesso, per tirare giù la mappazza, abbiamo deciso di farci un dolcetto vegetale. Buon 2012 a tutti. Questo è il dolcetto di Natalino. Ma stiamo scherzando. Io ho il diabete. Guarda che lavoro. Io ho il diabete. È dalle 7 che sto mangiando. Mi gira la testa. Mi viene un nick tos. io adesso vi saluto vi auguro a discapito di tutto volevo dirvi solamente la cosa vi auguro a tutti il 2012 di merda va bene? andatevene tutti a fanculo voi e il 2012 perché è inutile che non salutate per tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre non salutate neanche e volete gli auguri di buon anno? tenetevi gli auguri va a fanculo è bellissimo andrano, veramente